buongiorno a tutti eccomi qui questo è un video in diretta dalla cabina di un nostro amico che ha la suite a prua qui noi siamo completamente a prua vedete c'è già il balcone aperto completamente a prua eccoci qui siamo proprio davanti guardate che bello si vedono tutte le bandiere e c'è la vetrata però la parte si respira non è come le vecchie suite di fantasia che è chiusa ma proprio parto vedete il cielo una bella cabina molto molto particolare mi piace a cui c'è sempre la nostra magnifica ciao elisa grazie molto bella questa camina e di fianco c'è la deluxe e quella vabbè quello è un sogno d'occhio parti sarà stupendo vedere la partenza da qui perché merita avete visto se riesco ingrandisco ciao tiziana grazie più di tanto non riesco a farvi vedere perché poi sono piccola e finisce molto bella anche questa camera con la particolarità del balcone completamente a prua volevo farvele vedere ecco condividere con voi anche la particolarità di questa cabina che non sempre capita ciao a tutti andiamo a pranzo perché quasi ora e ci sentiamo dopo ciao a questa è la 15 009 ma sono tutte quelle davanti quindi poi sarà la 11 e la royal adesso faccio vedere mi porta in corridoio mi porta in corridoio così vedete bene ecco vedete questa è la royal eccola qui e questo è il corridoio queste sono le interne e di cui penso che queste sono tutte uguali sia la 1 la 3 anche queste qua siamo le pari e poi sempre la royal nell'angolo quindi praticamente sono tutte le cabine con i numeri bassi eccoci qua sempre a prua e questa è la royal la vedete che cambia anche proprio il colore da fuori e invece camera mia è qui in fondo se sanno verso l'uscita c'è la porta e questa è la mia ecco qui e si vede che c'è confusione camera mia eccoci eccoci eccoci